A Pozzuoli, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato un arsenale custodito da un 49enne, già noto alle forze dell'ordine Michele Fontana. Nel suo garage militari del nucleo radomobile hanno trovato due mitragliette e un fucile mitragliatore, un micro-uzi privo di matricola e dotato di silenziatore, un kalashnikov senza matricola e un mitra Scorpion con matricola a brasa, nonché tre fucili da caccia con canne, calcio mozzati e matricola a brasa. Le armi erano in un borsone insieme a una pistola a tamburo con matricola a brasa, 277 cartucce di vario calibro e una valigetta di plastica. Sono stati posti sigilli al garage Fontana, è stato arrestato per detenzione di armi e munizioni da guerra e tradotto in carcere.